Economia circolare, mobilità sostenibile con Lega Ambiente, Taumat di Atesa, azienda leader nella componentistica per auto che vanno a braccetto sulla costa dei trabocchi in piena sintonia e rispetto dell'ambiente. La Taumat ha infatti brevettato il DAC, kit composto da un telaio con componenti per la trazione elettrica, uno scooter a tre ruote che richiede un euro di ricarica per percorrere 50 chilometri, mezzo ideale per il servizio di ciclo officina mobile a sostegno di ciclisti in panne. Un DAC è stato consegnato a Lega Ambiente che ne farà buon uso. A Vallevò sul trabocco sasso della Cayana le chiavi del mezzo sono state consegnate da Alessio Lorenzi, direttore commerciale Taumat, a Daniele Colantonio in rappresentanza di Lega Ambiente. E seguita una simulazione di ciò che il DAC sarà chiamato a fare, ciclista le prese con guasto, richiesta di soccorso, meccanico specializzato che a bordo del DAC presterà aiuto tecnico. La postazione fissa sarà a Vasto. Lega Ambiente farà questo servizio sulla costa di Trabocchi, diciamo che la sede sarà a Vasto San Salvo, dove apriremo una ciclo officina. In pratica l'operatore a chiamata interviene lungo la costa di Trabocchi. E quindi per dare un necessario intervento? Allora, questo serve per dare un input ad usare più la bici o il mezzo alternativo, la due ruota, il monopattino, quello che uno vuole, diciamo lasciando la macchina a casa, anche perché c'è questo servizio di treno più bici alla stazione. Per cui abbiamo... e questo fa parte del progetto Trabocchi Mob. Innovativo mezzo amico dell'ambiente è oggetto anche di una tesi di laurea presso l'Università Politecnica delle Marche. Giulia Bucco di Lanciano, neo-ingegnere, ha approfondito proprio il caso Taumat e i benefici del DAC. La mia tesi è ingegnata sul DAC che è un innovativo mezzo di locomozione che mi piace definire amico dell'ambiente vista la dotazione di un motore completamente elettrico che ha un impatto zero sull'ambiente e che è dotato di una doppia ruota sul posteriore che permette una maggiore stabilità e sicurezza alla guida.